Bianca Balti è stata la protagonista indiscussa del mega party organizzato in un locale di Milano per i suoi 40 anni. In un'atmosfera soffosa, arricchita da musiche dense e balli scatenati, la modella ha animato la festa con lo spirito più felice possibile, impreziosito dal dress code richiesto, bianchissima, che lei stessa ha interpretato alla grande con un abito composto da reggiseno e una cascata di cristalli. Tanti video e le foto della serata postati sul suo account Instagram. Volevo dirvi che vi voglio un sacco di bene, urla la festeggiata agli amici invitati, tra i quali Marco Mingoni, Amy Schilla, Giulia Salemi, Pierpaolo Pretelli e Gilda Ambrosio, prima di spegnere le candeline dalle due torte, una con la scritta 40 and still don't get jockeys, 40 anni e ancora non capisco le battute, e l'altra con send to young for botox, fi troppo giovane per il botox scritto su. Tra brindisi e balli scatenati, la serata è stata davvero indimenticabile. Bianca Balti ha compiuto 40 anni il 19 marzo e prima del party ha festeggiato con le figlie Matilde Lucidi e Mia McRae a mezzanotte, con palloncini a forma di 40 ad adobare la stanza. Matilde ha 17 anni ed è nata dal primo matrimonio della modella, e vive a Parigi con il papà Christian Lucidi. Mia, nata dal matrimonio con Matthew McRae, né a 9 e insieme alla mamma abita a Los Angeles. Nei giorni scorsi ha fatto molto discutere la decisione di regalare il congelamento degli ovuli alla sua primogenita. Quando hai 21 anni ti regalo il social freezing, così non ci pensi più, ti fai la tua vita e quando vuoi una gravidanza hai già tutto il necessario, ha detto la modella a Matilde. Sarebbe fantastico se fosse gratuito per tutte, per non avere la pressione. Real Video vi ringrazia per averci accompagnato fino alla fine. Per rimanere sempre aggiornati sui nostri prossimi video, vi invitiamo a iscrivervi al nostro canale e attivare la campanella delle notifiche. Grazie per il vostro supporto.